amici del canale internet buonasera buona domenica innanzitutto prima di partire a sprombattuto su questa partita che ha visto la nostra inter impegnata a monza volevo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al al canale ecco qui abbassiamo un po la luce niente vi ringrazio anche per aver seguito la live con giammaria in settimana allora ragazzi allora si tornava a giocare dopo la sosta alcuni nazionali non sono andati alcuni sono rimasti da piano l'inter va a monza l'inter fa cagare al cazzo scusatemi il termine l'inter fa schifo al cazzo mi dispiace usare questi termini io non sono mai stato così volgare da quando ho aperto questo questo canale ma oggi mi ritrovo a dire queste cose l'inter ha fatto letteralmente schifo vergognosamente schifo una squadra campione d'italia non può entrare con questo approccio in quel di monza una squadra che comunque doveva essere presa con con le pinze secondo me l'avranno anche studiata l'avranno anche non avranno sottovalutato l'evento ma l'inter ha sbagliato completamente l'approccio a questa gara finisce 1 a 1 ci è andata di lusso ci è andata di culo perché l'inter doveva perdere l'inter meritava di perdere l'inter è stata uccisa in campo dal 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 monza sportivamente parlando e si è ritrovata sotto all'ottantunesimo per un gran gol di mota che ha completamente uccellato quel quel decrepito di devrai contro un pavard veramente inguardabile oggi pavard giocatore mostruoso sontuoso ma oggi veramente pessimo anche se tutti sono stati pessimi anche l'autista nessuno si salva oggi neanche i tre fenomeni che stavano su come dirigenza scusate ma oggi sono veramente cattivo perché l'inter oggi ha fatto letteralmente cagare schifo vergognosamente schifo una squadra campione d'italia è una vergogna che faccia di queste partite in zaghi ha fatto schifo mi dispiace mi dispiace perché dopo lo scudetto era eravamo stati abituati una buona inter subito dopo lecce atalanta l'inter ha inceppato non dico in questa sconfitta che meritava perché l'inter meritava di perdere oggi ma è andata di culo e ha fatto uno a uno adesso vedremo se questo punto a fine stagione servirà oppure saranno più diciamo i punti che abbiamo perso contro geno e monza saranno veramente i quattro punti persi con geno e monza saranno veramente una cosa che pagheremo in ambito scudetto o in champions league adesso vediamo comunque dicevo l'inter approcciato male primo tempo vergognoso schifoso lento sono veramente abulici un io dio su tutti il peggiori in campo da vomito vomitevole veramente schifosamente brutto da vedere e aslani aslani un giocatore pessimo mediocre un giocatore da b un bimbo un bimbo minchia che gioca a pallone scusate però bisogna dirlo e fa cagare perché non fa niente di 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 nuovo non fa nulla che possa diciamo far fare una giocata alla squadra un cambio un cambio di gioco gioca sempre a due tre tocchi ma non ci voleva il signor stramaccioni che ricordiamo è uno dei pei più pessimi alle tre pessimo dell'inter ci voleva stramaccioni l'abbiamo visto anche noi prima che parlasse lui che quanto è lento e sia lento il giocatore albanese che forse solo in albania può giocare anzi spero che possa rientrare più presto nel suo paese perché è lì che può giocare onestamente ripeto a parte questo l'inter ripeto ha meritato non ha meritato non meritava il pareggio ripeto primo tempo brutto lunghi gente gente sconclusionata lautaro sempre in ritardo turamma innescato le fasce inesistenti darmian che veramente sdormiva con questi capelli leccati che sembrava un divo di hollywood ma veramente gioca veramente tipo mio nonno alla buonanima quando giocava a pallone una difesa che veniva presa sempre in controtempo con un giuric che è un sembrava sembrava non lo so boh sembrava il giocatore che i caster yanker sembrava in attacco ripeto l'inter pessima nel primo tempo un monza normalissimo nel secondo tempo forse sembrava di vedere un inter diversa ma invece la musica non cambia addirittura i cambi fatti d'enzaghi gottaremi e zianinsky e compagnia bella non creano nessun'altra alternativa di gioco di sfogo all'inter che comunque continua sulla falsa riga sulla sulla stessa riga del del primo tempo quindi vomitevolmente schifosa e poi all'ottantunesimo arriva l'inculata scusate il termine da parte di mota che sigilla un bel cross e un colpo di testa che ha uccellato la difesa che l'immobile guardava le farfalle e metteva la palla sotto il sette allora che il monza io ho goduto perché avrei sperato in una sconfitta perché vi dico la verità veramente in queste partite c'è solo da sperare di perdere per poter farsi un bagno d'umiltà l'inter trova il pareggio con adesso non venitemi a dire eh sei buono solo ragazzi chi ha giocato al calcio chissà queste sconfitte si arrivano a parte che un pareggio con una sconfitta ma queste queste partite dovrebbero servire a farsi un bagno di umiltà se hanno le palle se hanno i coglioni come hanno dimostrato l'anno scorso si facessero un bagno di umiltà sti sti figli della 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 fortuna veramente perché veramente fanno fanno schifo dove devono ringraziare gesù cristo che sono fortunati e dovrebbero entrare in campo col sangue agli occhi invece fanno queste partite di merda e ti fanno vomitare anche il pranzo della domenica sti viziati pezzi di cretini che sono che sono hanno vinto uno scudetto dovrebbero entrare in campo col sangue agli occhi sapendo che chi gioca contro ti vuole giocare il doppio al doppio della velocità sti ebbeti perché così bisogna chiamarli così bisogna chiamarli oggi tutti quanti dal primo all'ultimo dall'allenatore anche anche al magazziniero a tutti quanti che cazzo di colpi hanno i magazzinieri ma non me ne frega niente ragazzi perché una vergogna una vergogna la partita di oggi è da vomito e da vomito e da vomito a me non me ne frega un cazzo di chi è juventino milanista io parlo della mia squadra e dico quello che voglio e dico le cose come stanno non per fare like e visualizzazioni perché non me ne frega un'emerita minchia di niente ma lo dico perché veramente ci tengo alla mia squadra e non faccio visualizzazioni solo perché sono a un altro punto il canale dove avere 30 mila 40 mila visualizzazioni ma non me ne frega un cazzo io sono qua per ascoltare anche voi e per capire se la mia la mia idea il mio pensiero anche se è più volgare scusatemi il termine penso sia giusto perché è un tifoso che parla arrabbiato incazzato ed è giusto che sia così però ripeto l'inter allorché ha fatto ha messo in campo tutto quello che poteva con Arnautovic e Correa qualcosa ragazzi Arnautovic e Correa sono veramente qualcosa da Lega Pro io veramente non so come fanno questi esseri ignobili a giocare ancora a calcio e a non ritirarsi però l'inter perviene al pareggio con una con un cross di 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 Carlos che viene deviato da Danfris dall'altra parte appoggia la palla in rete a quel punto si sperava in una in una fortunata rimonta finisce una una addirittura all'occasione il il Monza ma gli viene tolta perché Pairetto che è un arbitro scarsissimo a livelli proprio scarsi come la merda fischia una punizione che poteva anche lasciare andare il vantaggio e avrebbe segnato il Monza al 94esimo una cosa l'inter veramente ragazzi è stato oggi è stata una cosa vergognosa è una cosa vomitevole proprio da 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 mandare a cagare tutti quanti cioè è il problema che vanno sotto la curva vengono applauditi cioè non hanno capito che si devono fare un bagno d'umiltà adesso l'inter andrà a Manchester noi andiamo a Manchester vediamo che cosa fanno perché poi voglio capire perché Barella non ha giocato poi me lo spiegate perché io Inzaghi non lo voglio sentire per almeno una settimana mi dispiace ma io sono veramente molto molto non dico incazzato perché a lui non gli ne frega un cazzo non so neanche che esisto come 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 giusto che sia però Inzaghi basta non lo voglio sentire più fino a fine stagione non voglio sentire più niente non seguirò più niente di Inzaghi perché veramente oggi mi ha deluso mi ha deluso nei cambi ha messo Arnautvic Correa quando doveva mettere Barella e Cialanova doveva mettere bastoni perché devono giocare non mi parlate di Champions League perché vi sputo in faccia andate a fare in culo voi e quella coppa di merda perché l'Inter la Champions League non la vince l'Inter se passa se entra nelle prime otto è a culo se entra nelle 24 è per Milacolo e se passa il turno bisogna ringraziare Gesù Cristo l'Inter deve pensare solo a vincere o i campionati o ad andare sempre in Champions League questo deve essere l'obiettivo dell'Inter e a conquistare qualche coppa qualche vaso da notte come la Supercoppa e quella Coppa Italia perché quello può ambire e sperare e sperare di fare lo step con un allenatore che possa far diventare questa squadra che è una base buona una grande squadra perché ad oggi l'Inter è solo una una buonissima una squadra scusate un'ottima squadra l'Inter ad oggi è una buonissima squadra con una base buona ma purtroppo questi step oggi l'avete visto col Genoa la stessa cosa ragazzi che dire Manchester mercoledì e saranno veramente dolori perché l'Inter non vince a Manchester io ve lo dico qui potrò anche sbagliarmi ma l'Inter se perde perde 3 a 1 o perderà tipo 4 a 2 o 3 a 3 a 0 perché l'Inter non ce la fa a Manchester e poi c'è il derby il derby l'Inter arriva con le ossa rotte arriva dopo una partita brutta a Monza arriverà dopo aver giocato a Manchester vediamo che succede se escirà con le ossa rotte arriveremo a un derby che veramente saprà veramente di non dico di ultima di ultima chance anche se siamo a settembre ma veramente far ringalluzzire loro non lo so vediamo 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 come va non ci voleva la Champions è sempre una coppa maledetta che si va a mettere in mezzo sempre alle partite che servono però meglio che sia arrivata questo stop adesso 1 a 1 e non con una grande squadra dove poteva fare male certo i punti persi con Monza e Genoa potrebbero pesare vediamo un po' può essere questo punto preso per il rotto della cuffia può servire vediamo come a maggio che succede ragazzi io vi abbraccio 10 minuti basta in avanzano per descrivere quella merda che abbiamo visto oggi perché è una squadra che oggi ha prodotto solo merda perché è così perché l'Inter oggi ha prodotto lo schifo il nulla la merda e speriamo che possano migliorare col City e col Milan io non parlo più vediamo che succede e speriamo bene dirai ma tu hai vinto lo scudetto solo sei mesi fa adesso fai il dramma noi non faccio il dramma io dico che questa squadra ripeto si può vincere si può perdere ma bisogna vedere come l'Inter oggi ha pareggiato e stava perdendo in una maniera vergognosa e non è giusto anche vincere in maniera vergognosa non è giusto però quando uno vince ci gode anche un po' e dice porta il bottino a casa ma quando perdi come oggi e poi ha pareggiato ragazzi diciamocela tutta se l'Inter avesse perso oggi 1 a 0 non sarebbe stato non sarebbe stato anche non giusto l'Inter avrebbe perso meritatamente avrebbe meritato di perdere abbiamo avuto la botta di culo che ha segnato Danfris un bucio di culo abbiamo pareggiato però rimane la prestazione molto 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 brutta di una squadra allenata da un allenatore che oggi non ci ha capito un cazzo di niente buonanotte ragazzi penso di avervi allettato con con il meglio quindi mi dispiace perché il primo video ma oggi veramente veramente una partita così brutta ma così brutta penso che non la vedevo dai tempi di spalletti oppure non lo so da Bologna da Bologna Inter 2 a 1 queste partite qua è tornata l'Inter del 2021-2022 mi auguro di no mi auguro di no però oggi sembrava essere tornato indietro di nella 2021-2022 buonanotte ragazzi forza Inter però questa settimana non la vedo bene ragazzi spero di sbagliarmi non la vedo bene ciao ciao a tutti buonanotte forza Inter Inzaghi apri i cervelli ciao a tutti